Avete avuto una mattinata intensa di emozioni, delle tante cose che sono state premiate, dei tanti capolavori, chiamiamoli così, delle tante cose belle che sono state scritte e sono state dette. Purtroppo ero impegnato in un convegno sulla scuola altrettanto importante, che mi spiaceva abbandonare prima e quindi sono arrivata con un po' di ritardo. Però mi piace essere presente, mi piace perché questa è sempre una bella occasione per ricordare una donna, una donna del nostro territorio, la quale chi ha avuto la fortuna di conoscere, la ricordiamo sempre con grande affetto, la quale abbiamo voluto molto bene. Prima nel prendere in mano l'opuscolo di presentazione del concorso, mi sono ricordata che il prossimo anno saranno dieci anni, dico bene? Questi sono i dieci anni del concorso, ma è la nonna di visione, perché abbiamo saltato un anno. Però credo che il prossimo anno dovremmo dedicare qualcosa di speciale, perché dobbiamo far crescere tutti insieme questo concorso, dobbiamo dedicare qualcosa di speciale a una donna e alle donne che lasciano un segno importante nei nostri territori, perché abbiamo bisogno davvero di lasciare questi messaggi, di lanciare questi messaggi, di lanciarli soprattutto all'interno delle scuole. Quindi, insomma, compatibilmente con gli impegni di tutti quanti noi e soprattutto con quello di Tiziana e di tutte le persone che lavorano con lei, dovremmo insieme trovare una nuova forza, una nuova linfa e per ritrovarci con qualche sorpresa in più per il prossimo anno e che mi impegno personalmente nel cercare di farla insieme. Grazie per quello che fate, per il lavoro che voi fate quotidianamente, perché il lavoro del prossimo anno inizia domani e quindi da domani siete di nuovo pronti per una nuova scommessa e per una nuova avventura. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Sono ancora in linea? Grazie.